Lei oggi con una decisione presa ieri sera ha chiuso tutte le scuole della città a seguito dell'allerta meteo dato dalla protezione civile. Nella sua nota lei ha fatto una vena polemica, si poteva intravedere, rispetto a una carenza di precise informazioni date dalla protezione civile. La nota è del vertice della protezione civile a cui ho dato l'ordine ovviamente di provvedere in quella direzione. Perché il nostro paese vive molte confusioni e una delle principali confusioni è quella di lasciare i sindaci sempre col cerino in mano. La catena di comando della protezione civile lancia le allerte, rossa, arancione, gialla, verde, mai molto dettagliate, mai molto generiche. Molto spesso assai generiche, certe volte le guardi e le leggi e ti prende un'inquietudine senza capire perché. Ma non ci sono dettagli, non ci sono indicazioni, non ci sono specifiche, non ci sono orari. Non ci stanno, si affida al sindaco con le sue capacità empiriche di valutare che cosa fare. Siccome in materia di sicurezza in un paese che ha lasciato i soli i sindaci, un paese che cade a pezzi, cadono i ponti, cadono le scuole, cadono gli alberi, cadono i cornicioni, e ai sindaci non viene data la possibilità di mettere in sicurezza perché i governi nazionali tutti finora pensano a tutt'altro tranne che a mettere in sicurezza il paese, siccome la sicurezza soprattutto dei nostri bambini e dei nostri giovani si avviene prima di tutto, di fronte a questo, di fronte all'erte a meteo serie, l'eccesso di zelo da oggi in poi, per quanto mi riguarda, prevarrà sempre su qualsiasi altra considerazione. È meglio prevenire che disseminare la città di lacrime di coccodrillo. Però questo è anche un modo per dire che così non si può andare avanti. Guardate che cosa è successo sul Pollino, con un'allerta gialla, non arancione, 12 morti e alla fine le catene di responsabilità. Questo è un paese che deve decidere perché la prima linea del paese sono i cittadini e gli amministratori locali. Noi dobbiamo essere messi in condizioni di mettere in sicurezza i nostri parchi, le nostre strade e le nostre scuole e oltre a tante altre cose. E siccome questo lo si fa avendo risorse economiche, senza soldi, è un paese profondamente importante. Insicuro. Vedete i dati della protezione civile nazionale sulla sicurezza delle scuole del nostro paese. E siccome i cambiamenti climatici non sono più un'invenzione, come ritiene il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ma sono una certezza, oggi nemmeno la protezione civile nazionale è in grado di fare previsioni accurate, particolarmente approfondite. Oppure si preferisce lasciare la decisione empirica a chi ha la responsabilità di tutto e del contrario di tutto, quindi i sindaci. Quindi noi da oggi in poi, quando ci saranno allerte meteo serie, concrete, quindi senza creare allarmismo, senza creare panico, ma quando andiamo su allerte significative, rosse o arancioni, noi ci faremo dettare dalla linea di condotta che è meglio essere un po' più rigorosi nel prevenire che poi fare la catena, come dire, del perché non si è messo in atto tutto quello che si poteva fare. Un'ultima cosa la voglio dire su ieri, perché ieri abbiamo monitorato sin dall'inizio, quindi avevamo previsto ovviamente tutte le azioni a cautela del territorio con l'allerta arancione, si è arrivati alla sera perché abbiamo cercato in vano più volte di avere qualche specifica nel dettaglio, se magari chiudere alcune zone oppure altre, poi abbiamo visto anche il disastro che è successo a Roma, che questo fa comprendere praticamente di quanto ormai non si riesce a prevedere nulla nel nostro paese come altrove, quindi da oggi in poi il sindaco di Napoli, quando si tratterà di mettere in sicurezza i suoi abitanti, i suoi concittadini, manterrà il massimo di attenzione, pur consapevole, che ci possono essere chiaramente anche dei disagi importanti. Scusi sindaco, perché solo poi le scuole e non tutti gli edifici pubblici? No, perché queste sono misure graduali che si fanno a seconda dell'allerta rossa, all'allerta arancione, c'è sempre una gradualità, quindi con quel tipo di allerta meteo si poteva non chiuderle o si poteva chiuderle, ritorniamo al discorso di prima, di fronte al rischio ho preferito chiudere le scuole di ordine e grado, perché la stessa sua domanda si potrebbe porre per le università, per gli edifici pubblici, eccetera, poi c'è ciò che compete ai sindaci e ciò che compete ai rettori, compete a altre istituzioni. Il sindaco ha soprattutto una sua responsabilità molto forte con i bambini e con i ragazzi, che per me sono la priorità e con questa allerta arancione credo che sia stata una misura adeguata, avendo alzato la soglia molto in alto della prevenzione. Grazie. Ma l'incertezza dei comunicati della protezione civile, la sintetizzo così? Non li avete visti, sono... Sì, no, no, voglio dire, è giudicata, come dire, in termini, perdone l'uso dei termini giudici, in termini colposi, oppure stiamo dicendo che anche loro non hanno gli strumenti per... Io non sono uno scienziato, faccio il sindaco, cerco di fare tutto e, come dire, allora, io non sono uno scienziato, quindi non sono in grado di poter dire se si ha la possibilità di avere informazioni più dettagliate. Io personalmente ritengo, ma questa è una mia opinione da uomo di strada, da sindaco, da giurista e da ex magistrato, che se si investisse maggiormente da un punto di vista di risorse, oggi tecnicamente c'è la possibilità di prevedere al dettaglio, al chilometro quadro, il rischio che c'è. Basta vedere le tecnologie che si usano quando si fanno le operazioni militari chirurgiche. L'aspetto militare c'è una precisione fino al dettaglio. Perché costa? Costa economicamente. Che cosa è più importante? Ricostruire nel dettaglio l'obiettivo per uccidere delle persone, talvolta anche i civili, o forse sarebbe più utile investire un po' di denaro pubblico come Protezione Civile Nazionale e come Governo per garantire maggiormente la sicurezza dei nostri concittadini? Questa è la domanda. Questa è una prima. Poi anche un'altra parte di risposta. Ci aspetteremmo però da parte della Protezione Civile Nazionale e Regionale, a cascata, proprio perché alla fine è il sindaco e deve prendere decisione, ma mica solo il sindaco di Napoli, siamo parlando di sindaci, tutti da... Anzi, ancora più difficile sono anche i sindaci di montagna, i sindaci a ridosso delle colline, del Vesuvio, se vogliamo rimanere in zona, che insomma, un po' più di specifica in più, mi sembra veramente un atteggiamento da un punto di vista istituzionale molto pilatesco, cioè due righe dove certe volte sono due righe veramente inquietanti, dove si dice, attenzione, fiumi, torrenti, eolo, pioggia, grandi, e poi vediamo i cambiamenti. Io credo che c'è un problema di priorità, questo è il grido di dolore che voglio lanciare, un problema di priorità del Paese. Il Paese non ha messo nelle sue priorità la messa in sicurezza del Paese e dei suoi abitanti e così non si può più andare avanti, perché noi non siamo quelli, come dire, che uno si fa solamente il segno della croce, speriamo che oggi sia andato bene. Quindi fin quando sarà così, la nostra decisione che abbiamo maturato e che ho maturato io personalmente, quindi una direttiva e un ordine che ho dato da questo punto di vista, quasi parla di ordini, da questo punto di vista, è di alzare l'asticella. Quindi ognuno si deve abituare, fin quando i governi nazionali, il Paese, continuerà a fregarsene della sicurezza del nostro territorio e dei nostri concittadini, io personalmente, non so come faranno i miei colleghi signi, alzeremo l'asticella di prevenzione, perché la sicurezza viene prima di ogni altro disagio che possiamo vivere ognuno di noi quotidianamente, chiaramente, non c'è due. C'è già risposto tecnicamente, perché si profita anche il paradosso che viene l'inverno e rischiamo... Certo, ti ricordi la neve? Certo, anche perché i cambiamenti climatici ci sono, lo vedete Roma ieri, le bombe d'acqua, cioè non è che stiamo... Esatto, qua non sappiamo ancora come si evolve la giornata, però esatto, arancione, rosso, sono confini, però la vera denuncia che io faccio, volendo, potresti prevedere nel dettaglio, cioè la scienza, da quello che so io, la scienza può arrivare a prevedere in maniera precisa. Allora, perché noi non siamo messi in condizioni di sapere l'informativa precisa? E dobbiamo andare empiricamente, cioè noi ieri sera abbiamo dovuto lavorare sull'empirico. Però in questo quadro di tutte le manchevolezze, tu sindaco ci dici che se si ripete l'episodio si ripeteva... Vabbè, poi vediamo di volta in volta, quella è la linea, non è che siamo schizofrenici, quella è la linea, se c'è un altro allarme arancione, poi vediamo pure il dettaglio, perché può essere l'arancione fondato sul vento, oppure sulla neve, quindi vedremo di volta in volta, ma noi, come dire, nel dubbio, prima la sicurezza. Mettiamolo in questo modo, nel dubbio, nel dubbio serio, ponderato, fondato, riflettuto, analizzato, prima la sicurezza. Ma diciamoci che anche in precedenza la produzione civile, abbassando la sticella, poi si è trovata in contropiede, perché c'è stato il fenomeno, insomma, quindi praticamente ci sono stati i danni maggiori. E' meglio che non succeda niente, magari c'è stato un eccesso, posso anche capire... Anche loro lo alzano, ma perché lo alzano, perché pure loro, secondo me, in fondo, non hanno quella possibilità chirurgica, certe volte, altre volte credo si va molto anche nella burocrazia. Mannasfugliatella, manasfugliatella ai sindaci, e poi se vede, chiami, ma noi più di questo non possiamo dire, chiami quell'altro, no, noi non sappiamo niente, è così, questo è. Grazie a tutti.